In Vaticano avevano bisogno di un carrello molto compatto, silenzioso, facile da utilizzare, che potesse muoversi in spazi molto ristretti senza creare danni a cose molto preziose. Io sono un sanpietrino e uso il carrello stile all'interno della Basilica di San Pietro. Con il carrello stile spostiamo i bancali, le seggiole, i confessionali e le transenne. Le cose più utili che ho trovato sul carrello stile sono le leve di comando e la velocità del carrello. La possiamo mettere da uno a cinque e se dobbiamo fare un lavoro di precisione e di delicatezza abbiamo questa possibilità. E hanno trovato in stile un prodotto adatto alle loro esigenze. Maneggevole, facile da utilizzare, silenzioso, rispettoso dell'ambiente, molto pratico. Questo è il risato nella Basilica, all'interno della Basilica, soprattutto perché essendo silenzioso lo si può utilizzare senza disturbare la vita della Basilica. Manca l'esterno della Basilica, tenga conto che sono tre ettari e mezzo all'esterno della Basilica e anche questo ha bisogno di continua manutenzione. Lo si può usare sia all'esterno sia all'interno. Prima questi lavori venivano fatti manualmente, adesso con il carrello siamo più contenti. contenti.